Aprirà a breve e sarà operativo già entro il mese di aprile il Tempio Crematorio di Sicilia, a Delia, nel centro dell'isola, gestito da una società privata. Attualmente sono soltanto due i tempi crematori operativi nell'isola. Il Tempio di Sicilia, spiega l'ingegner Pietro Lavarini, amministratore dell'azienda, è stato progettato ponendo la massima attenzione ai temi ambientali ed etici. L'utilizzo delle migliori tecnologie sul mercato, innovative e sicure, e dei più avanzati sistemi di filtrazione per l'abbattimento dei fumi di scarico, con livello di emissioni sensibilmente inferiori ai valori minimi di legge, garantisce alla popolazione siciliana la massima tutela della salute pubblica e dell'ambiente. Oltre a fornire un servizio importantissimo alla popolazione dell'isola, vista la grave carenza di altri impianti in Sicilia e la condizione in cui versano molti cimiteri ormai sempre più saturi, la costruzione dell'impianto a Delia darà notevoli ricadute positive sull'economia del territorio. Le aziende e le maestranze impiegate nell'esecuzione dell'opera sono state totalmente acquisite sul territorio siciliano, così come i materiali integralmente di fattura isolana.